Ciao a tutti, oggi prepareremo le polpettine di verdure. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono ceci lessati, carote tagliata a pezzetti, sedano tagliata a pezzetti, prezzemolo, spinaci già lessati, pangrattato, uovo, pecorino, parmigiano, olio evo, sale, pepe e noce moscata. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le carote, gli spinaci, il sedano e il prezzemolo e i ceci. Ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere il parmigiano, il pecorino, il pan grattato, la noce moscata, il sale, il pepe, l'uovo, l'olio ed azionare il bimbi per 20 secondi a velocità 5. Il composto è pronto, formare le polpettine. Prendere un po' di impasto, mi ha formato la polpettina, adesso la passeremo nel pangrattato e posizionarle su una teglia ripestita con carta da forno. Irrorare con un filo d'olio e cuocere in forno prediscaldato a 180 gradi per 25-30 minuti. Le polpettine sono cotte, serviamole. Polpettine di verdure, grazie e alla prossima ricetta! Polpettine di verdure, grazie e alla prossima ricetta! Polpettine di verdure, grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti.